Buonasera a tutti e ben ritrovati ad un nuovo appuntamento dedicato all'informazione di Calabria News 24. Partiamo con i nostri titoli. Omicidio dalla chiesa, coinvolta anche la drangheta. Sequestrati beni per 19 milioni di euro ad un medico di Reggio Calabria. Arrestato uno spacciatore a Nocera Terinese. Polemiche nel PD calabrese dopo il pessimo risultato del 4 marzo. E scontro tra Monsignor Luigi Renzo e la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime di Paravati. Garante per l'infanzia e l'adolescenza della Regione Calabria, da Siderno lancia un monito. Non lasciamo soli i ragazzi con i social media. Coldiretti Calabria consegna gli attestati di partecipazione a 15 nuovi agri-chef. Continuano i concerti del giovedì ideati dal Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valencia. Volley dopo la sconfitta in gara 1, Vibo Valencia si prepara ad affrontare la trasferta di Sora. E apriamo dunque con la cronaca. Era il lontano 1982 quando il generale Carlo Alberto dalla Chiesa è stato freddato a Palermo. A volere la morte di dalla Chiesa anche la drangheta. Un nuovo collaboratore di giustizia, Simone Canale, chiama in causa la cosca Alvaro della drangheta per l'assassinio del 1982 a Palermo del generale Carlo Alberto dalla Chiesa e della moglie Emanuela Setti Carraro. Canale ha rivelato al PM della DDA di Reggio Calabria, Giulia Pantano, di aver appreso in carcere che sarebbe stato il boss Nicolo Alvaro a sparare con un ammetragliatore contro l'auto su cui viaggiavano il prefetto della Chiesa e la moglie. Il nome di Alvaro venne fuori nell'immediatezza delle indagini, ma il boss vupo è prosciolto e per l'assassinio del prefetto furono condannati Benedetto Nitto, Santa Paola e i componenti della cupola palermitana. Simone Canale ha anche rivelato numerosi particolari sulle attività criminali degli Alvaro e sulla loro alleanza, in particolare con i piromalli, indicandoli anche come responsabili dell'uccisione del boss di Gioia Tauro Roccomolè. Le dichiarazioni di Canale sull'omicidio di Dalla Chiesa e della moglie sono state trasmesse alla DDA di Palermo. Ben 19 milioni di euro sono stati posti sotto sequestro ad un medico di Reggio Calabria che avrebbe agevolato dei ricoveri per presunti esponenti delle cosche. Beni per 19 milioni di euro sono stati sequestrati da Guardia di Finanza e Carabinieri ad un medico chirurgo reggino, Francesco Cellini. L'uomo è imputato nell'operazione Sansone condotta nel 2016 contro le cosche Condello di Reggio Calabria e Zito Bertuca Imerti Buda di Villa San Giovanni. Secondo l'accusa, come medico e legale rappresentante della cooperativa Anfora che gestisce la clinica Nova Salus avrebbe ricoverato mafiosi per evitargli il carcere e curato i latitanti Pasquale e Giovanni Tecano. Il sequestro è stato disposto dalla sezione misure di prevenzione del Tribunale di Reggio Calabria ed eseguito con il coordinamento della DDA dai finanzieri del Comando Provinciale con l'ausilio di personale del Servizio Centrale Investigazione e Criminalità Organizzata insieme ai Carabinieri del ROS. Il provvedimento ha riguardato quote sociali, patrimonio aziendale, rapporti finanziari della Nova Salus SRL in liquidazione, della nuova Anfora SRL, della Anfora Cooperativa Sociale ARL, compresa la clinica Nova Salus, due fabbricati, un terreno e conti correnti, libretto di deposito, contratti di acquisto di titoli di Stato, azioni, obbligazioni, certificati di deposito ed assicurazioni. Nell'operazione Sansone Cellini è accusato di concorso esterno in associazione mafiosa poiché per l'accusa avrebbe intrattenuto rapporti di costante e reciproco scambio con il Cosca Pasquale Bertuca. È stato arrestato a Nocera Terinese uno spacciatore in possesso di diversi tipi di sostanza stupefacente. La Guardia di Finanza di Lamezia Terme a Nocera Terinese è arrestato uno spacciatore di sostanza stupefacente sequestrando anche droghe di vario tipo. L'arresto è stato eseguito in seguito ad una perquisizione domiciliare. Presso l'abitazione dell'indacato sono stati rinvenuti, grazie anche all'ausilio dell'unità cinofila, sostanze stupefacenti di vario genere, hashish, marijuana e cocaina, oltre ad una serie di materiali utilizzati evidentemente per il confezionamento delle singole dosi, quali bilancini elettronici, un tritino, cellofanari tagliato in piccoli pezzi e somme di denari in bangonote di piccolo taglio per un importo complessivo pari a 385 euro, provento dello spaccio. Parte della droga è stata spontaneamente consegnata dall'indagato nel momento in cui i finanziari hanno fatto eluzioni in casa, anche se lo stesso nel corso delle operazioni di perquisizione, ritenendo di aver eluso l'attenzione dei militari, ha tentato di disfarsi in un'altra partita di stupefacente lanciandola dal balcone, un'azione che seppur repentina non è sfuggita alle fiamme gialle e al cane antidroga. All'esito delle operazioni, contestualmente al sequestro della droga quantificata in 78 grammi di marijuana, 22 grammi di hashish e 6 grammi di cocaina, oltre al materiale utilizzato per il confezionamento delle singole dosi. Ed al predetto denaro i finanziari hanno tratto in arresto lo spacciatore. Dopo il voto dello scorso 4 marzo proseguono le polemiche interne al Partito Democratico. Il post-voto è decisamente caldo in casa al Partito Democratico e le polemiche non mancano anche in Calabria. Prima le richieste di cambiamento da parte della base, poi qualche giorno fa era stato il segretario regionale Ernesto Magorno a chiedere un cambio di passo all'aggiunta regionale. Ora è arrivata anche la risposta del presidente della regione Calabria Mario Liverio. Il governatore ha parlato di immiserimento della politica definendo ardito utilizzare il dato elettorale per fare una polemica interna al PD calabrese. Lo stesso Liverio poi ha sottolineato di aver lavorato in solitudine ed ha annunciato il rimpasto di un'aggiunta che presenterebbe caselle vuote. Sto riflettendo, ha detto Liverio, perché questo va fatto sempre con la bussola che mette al centro la Calabria, i calabresi e il bene comune e non le appartenenze a questo o a quella bandierina. Penso dunque ad un'aggiunta che risponda a questi criteri con scelte fatte in piena autonomia e libertà e di cui mi assumo tutte le responsabilità. E cambiamo argomento. Si inasprisce lo scontro tra il Vescovo della Diocesi di Mileto Nicotera e Tropea Monsignor Luigi Renzo e la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime di Paravati e la Conferenza Episcopale Calabra prende posizione in favore del presule. La cherel venuta alla ribalta delle cronache lo scorso anno tra la Diocesi di Mileto Nicotera e Tropea e la Fondazione Cuore Immacolato di Maria Rifugio delle Anime, voluta da Natuzza quando era ancora in vita e che tanta preoccupazione aveva destato soprattutto tra i fedeli e i devoti alla mistica di Paravati, sembrava aver preso una piega diversa da quella che invece sta venendo fuori in questi ultimi giorni. Infatti nei mesi passati erano stati numerosi segnali di distensione tra le due istituzioni, tanto che il presidente protempore Marcello Colloca, la cui famiglia donò alla Fondazione i terreni sui quali costruire il progetto ideato da Mamma Natuzza e il Vescovo Luigi Renzo, spesso si erano fatti vedere insieme, rilasciando anche dichiarazioni convergenti. Ora un nuovo inasprirsi dei contrasti che vertono sempre sulle modifiche allo statuto chieste dallo stesso Vescovo e caldeggiate dal Vaticano. Prima le dimissioni del presidente della Fondazione, poi quelle di altri membri del Consiglio di Amministrazione e di alcuni Revisori dei Conti. Quindi la convocazione di una riunione dei soci fondatori per adempiere ad alcuni atti non più rimandabili, come la ratifica delle nomine dei consiglieri cooptati, le deliberazioni in conseguenza, la nomina del Consiglio dei Revisori e la discussione di vari ed eventuali. Il Vescovo, quindi venuto a sapere della convocazione, ha sospeso e intimato la Fondazione a non procedere all'illegittima assemblea dei soci fondatori, cosa invece che non è avvenuta. Lo strappo sembrerebbe essere ormai non più ricucibile, anche se da parte della Fondazione ci sarebbe l'intenzione di chiedere la supplicazio al Vescovo Renzo, che potrebbe comunque prendere quelle decisioni drastiche che aveva annunciato, come quella di inviare agli organi competenti la definitiva revoca del decreto di religione e di culto alla Fondazione e a prendere in mano lui stesso le rendini della creatura voluta da Mamma Natuzza. Infine, quale estrema razio, a procedere anche alla sospensione a divinis e dei sacerdoti ribelli coinvolti. A questa storia poco edificante, ora si aggiunge il nuovo capitolo della conferenza episcopale Calabra, che ha espresso piena solidarietà e vicinanza al Vescovo di Mileto, per i contrasti in corso tra il Presule e la Fondazione intitolata alla Mistica Natuzza Evolo, sostenendo inoltre che non basta proclamare la propria adesione e comunione con la Chiesa, se poi si disobbedisce apertamente e con un pubblico scandalo alle direttive canoniche del Vescovo. Ricostruire un rapporto essenziale tra i giovani, la scuola e le famiglie senza lasciare che i social media prendano il sopravvento nella vita dei ragazzi. E' quanto affermato nell'ambito di un incontro a Siderno Antonio Marziale, garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria. Sentiamo. Si è svolto ieri, presso l'Istituto Michele Bello di Siderno, l'incontro con Antonio Marziale, garante per l'infanzia e l'adolescenza della regione Calabria, che ha avuto come oggetto il delicato rapporto insegnanti-genitori. Marziale ha sottolineato che purtroppo oggi non esiste né conflittualità né complicità tra scuola e famiglia. A farla da padrone è invece l'indifferenza. I genitori dovrebbero comprendere, ha continuato Marziale, che la scuola è solo un supplemento di un percorso educativo che inizia nella famiglia e di cui essa è il perno principale. Una situazione allarmante presente in tutta Italia, ma più accentuata nel meridione. Le cui vittime sono solo i ragazzi, sempre più preda delle nuove agenzie di socializzazione come i media, i cui contenuti veicolati sono spesso rischiosi e violenti. Ristabilire un'alleanza, ha quindi concluso il garante, è quello di cui la scuola e soprattutto i ragazzi di ogni età hanno bisogno. Ma non c'è in questo momento collante tra le parti, ecco dire se c'è conflittualità, forse c'è indifferenza, forse c'è da parte dei genitori una mancata comprensione del fatto che la scuola è un supplemento educativo ai figli, ma la famiglia deve essere il perno principale dell'educazione e del seguire i ragazzi. La scuola con tutte le defiance che può avere ce le ha, comunque organizza convegni, organizza incontri, desidera avere un'interlocuzione con i genitori, i genitori sfuggono per la gran parte e ovviamente non mi riferisco alla scuola di Siderno dove magari c'è il collante, ma non c'è altrove, un po' dappertutto, in tutta Italia non è che stiamo parlando, nel meridione è un po' più marcata, in Calabria ancora più marcata, se non si ricrea un'alleanza educativa noi rischiamo di lasciare i figli alla mercè di agenzie di socializzazione come i media che di per sé non è che siano male perché esistono, ma per i contenuti che immettono, violenza, eroticizzazione, esasperazione del linguaggio, videogiochi sempre più violenti, telefonini che ti mettono in contatto col potenziale pedofilo, insomma rischi che ci sono e se non si rigenera questa alleanza tra genitori e scuole a perdere sono soli i bambini. Sono stati consegnati gli attestati di partecipazione e 15 agri-chef che hanno partecipato al primo concorso regionale organizzato da Coldiretti Calabria. Presso l'azienda agrituristica tenuta Torre di Garga di San Giovanni in Fiore in provincia di Cosenza con la consegna degli attestati si è concluso il corso di agri-chef della Calabria organizzato da Coldiretti. Non solo soddisfazione ma crescita professionale, crescita organizzativa, sicuramente protagonista su territorio di un racconto vero, un racconto che parte dai prodotti, che arriva sulla tavola con molta più professionalità e soprattutto con una rete di produttori e di agri-chef che daranno l'uso certamente a questa nostra bellissima regione. Noi siamo convinti che gli agriturismi in Calabria devono fare questo percorso di maggiore qualificazione e soprattutto di autenticità e veridicità di un racconto che parte, come dicevo, dal prodotto e arriva alle storie che stanno in una ricetta, in un piatto, in una tradizione, in una sagra, insomma, in tutto quello che può essere far vivere la nostra bellissima regione. L'obiettivo è stato quello di formare i partecipanti sulle tecniche di cucina e di sala. Presentazione e scelta dei vini per alzare il livello tecnico e le capacità gestionali e organizzative delle imprese agricole per valorizzare i prodotti aziendali. Noi continueremo con i nostri villaggi di Coldiretti che saranno anche l'occasione di far degustare il vero prodotto italiano e sicuramente l'appuntamento che avremo a fine aprile a Bari è l'occasione che riguarda da vicino la nostra regione. Ma ritornando a questi amici imprenditori agricole e agrituristici, veramente da oggi ci daranno l'opportunità di far conoscere di più e meglio le nostre bellissime tradizioni, nostri bellissimi prodotti e soprattutto quest'impegno in tanti giovani di scommettere in una regione come la Calabria a fare impresa e a fare accoglienza. Continuano i concerti del giovedì ideati dal Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valencia insieme ad Ama Calabria con lo scopo preciso di far venire fuori delle nuove idee per la città. Continuano i concerti del giovedì organizzati dal Conservatorio di Musica Fausto Torrefranca di Vibo Valencia in collaborazione con Ama Calabria e con le associazioni del territorio. Questa volta ad esibirsi per il numeroso pubblico presente presso l'auditorium dello Spirito Santo il Brass Quintet, formato da maestri che insegnano proprio nella prestigiosa istituzione vivonese. A partire da Nello Salza, soprannominato la Tromba del Cinema Italiano per aver collaborato con i premi Oscar Ennio Morricone e Nicole Piovani, per arrivare al vivonese Vittorino Naso. Questa volta è toccata l'associazione FIDAPA, la Federazione Italiana Donne, Arti, Professioni e Affari proporre la sua idea per la città. L'idea che noi abbiamo avuto come FIDAPA è stata appunto Donne e Musica questa bellissima iniziativa che hanno condiviso tutte le FIDAPINE e di conseguenza il progetto si articolerà in diverse tappe perché inizieremo a parlare della storia e della musica sia del periodo greco, del periodo romano, del Medioevo, Rinascimento, Humanesimo e anche del periodo romantico. faremo una ricerca di tutte quelle donne che nel tempo passato non sono state valorizzate per i loro talenti. Alla fine noi concluderemo questo percorso facendo una ricerca delle donne del nostro territorio, donne che hanno avuto dei talenti e che si sono distinti. faremo una premiazione per queste donne e coinvolgeremo tutte le scuole medie e le scuole superiori e organizzeremo un concorso appunto sulla musica e daremo un premio, una borsa di studio al ragazzo, alla ragazza meritevole con un elaborato che potrebbe essere un testo oppure un disegno. concluderemo con un convegno. Ringrazio il direttore Pollice che ha promesso che ci offrirà un concerto di donne per la FIDAPA che siamo donne. Allora, qual è il nostro obiettivo? È quello di cercare di incoraggiare tutte le donne, non solo le donne ma tutte le associazioni, perché noi ringraziamo che siamo state scelte come associazioni, cioè tutte le associazioni, fare rete e cercare di portare avanti questo progetto, questa idea in modo che si ritorni alla vecchia Vibbo, quando la Vibbo era un giardino sul mare. E ora passiamo allo sport, precisamente alla palla a volo. Dopo la vittoria in gara 1, Vibbo Valencia si appresta ad affrontare la trasferta di Sora. L'esorto nei play-off è stato positivo, ma in una post-season non ci si può permettere cae di concentrazione. Con la consapevolezza di essere solo a metà dell'opera, la tono calipo Vibbo Valencia va a Sora per gara 2 degli ottavi di finale ai play-off per il quinto posto. La vittoria di domenica scorsa è stata importante sicuramente per la Serie, ma anche per sbloccare Vibbo da un punto di vista psicologico, dopo una stagione certamente non esaltante. La seconda parola che ho utilizzato in spogliatoio era lucidità. Penso che questo corrisponde a quello che parla. La squadra è stata così nel momento difficile, nella transizione del secondo verso il terzo sette. Sicuramente noi abbiamo un livello interessante se possiamo giocare così. Io aspetto sinceramente che questa settimana ancora, una settimana importante del lavoro, ma una settimana completa, senza gara in mezzo alla settimana, possiamo recuperare la testa, il corpo, ma anche guardare e tenere questa motivazione importante di una vittoria molto importante dopo una situazione molto difficile che passiamo a vivo. E anche per oggi è tutto. Io vi aspetto domani, sempre qui sul canale 90 del Digitale Terrestre. Vi ricordo come di consueto di consultare il nostro sito www.calabrianews24.it. Grazie per essere stati con noi e auguro a tutti una felice serata.